Visitabile già in occasione delle giornate fai di primavera del 25 e 26 marzo scorsi, il Castello di Nelson, situato a Bronte, torna ad accogliere turisti e appassionati d'arte. Dopo sette lunghi anni di chiusura, resa necessaria per permettere lavori di ristrutturazione e restauro, la Ducea riapre in tutto il suo splendore. Caratterizzata da vari ambienti, tra i quali l'appartamento signorile, la chiesa di Santa Maria di Magnace, il granaio, l'ampio giardino e il lussureggiante parco, distribuiti intorno a due cortili interni, il Castello di Nelson sarà visitabile fino al prossimo 31 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato e la domenica fino alle ore 18. A decidere di riaprire le porte di uno dei monumenti architettonici più interessanti della Sicilia, il sindaco di Bronte, Pino Firarello. I lavori sono praticamente finiti, ha spiegato il primo cittadino brontese, e allora celebriamo l'arrivo della primavera, riaprendo al pubblico il Castello di Nelson. Questi anni senza il castello, ha proseguito ancora Firarello, sono serviti per rifare i tetti e le capriate particolarmente ammalorate, pulire il prospetto ed effettuare diverse manutenzioni. Ma non solo, il cortile dominato dalla croce celtica è stato ripavimentato e i giardini hanno riavuto il fascino di un tempo. Adesso con orgoglio, ha poi concluso il sindaco, diciamo che il turista che dalla costa o dalla città deciderà di arrivare fino a qui non rimarrà deluso.